La situazione economica della provincia di Livorno evidenzia dei dati altalenanti, dei focus che abbiamo come CGL, si evidenzia una situazione di criticità. Sono 16.700 le persone sotto sostegno al reddito difensivo, ovvero persone che hanno già perso il lavoro. Si evidenzia un aumento del tasso di occupazione, una diminuzione del tasso di occupazione, però questo è legato al lavoro fortemente frammentario e povero. I progetti per quanto riguarda il territorio dell'area livornese e dell'area di Piombino sono in ritardo. Facendo un focus sull'area di Livorno, i ritardi della realizzazione ad Arsena Europa, il silenzio caduto per quanto riguarda le aree dismesse, destano preoccupazione sotto il profilo del fronte sindacale. Ci possono essere elementi che possono creare occupazione. Il primo fra tutti è sicuramente un ragionamento sulle aree dismesse, le bonifiche rimesse a disposizione. Siamo in stand by per quanto riguarda tutto l'aspetto relegato al nuovo ospedale. A noi non ci interessa dove e come, ma occorre un investimento di innovazione e di riqualificazione delle strutture sanitarie. Le case della salute che sono ancora in ritardo complessivamente nella provincia di Livorno e soprattutto tutta la partita che riguarda la nautica e la portualità. Noi da tempo che chiediamo lo sblocco della gara dei bacini, femore stando il bando di gara e tutto quello che è legato all'attività. Però detto questo, se c'è un mercato e ci sono imprenditori disponibili da investire, riteniamo opportuno fare anche politiche di innovazione rispetto a questo settore. Poi l'altra cosa che manca e che è mancata è sicuramente il ruolo di Invitalia che non ha prodotto risultati ottenuti a fronte di 1950 posti teorizzati. Siamo a 60 posti di lavoro e speriamo che siano tutti realizzati. Quindi una situazione, un quadro complessivo critico nell'area Livornese per la quale occorre che le istituzioni e la politica lo facciano quadrato e riescono a dare risposte. Ultimo punto, il sostegno al reddito. Le aree di crisi, i lavoratori stanno disoccupati, stanno perdendo il sostegno al reddito. Noi abbiamo chiesto al governo di intervenire con strumenti importanti per poter dare possibilità di agganciare l'eventuale ripresa. Altrimenti i tempi della politica non corrisponderanno con la crisi delle famiglie e di conseguenza ci saranno lavoratori che non avranno sostegno al reddito e non potranno agganciare la ripresa.